Buongiorno, questa è la rassegna stampa in breve di video 33. Oggi è venerdì 22 luglio e il cielo sarà variabilmente nuvoloso su tutto il territorio provinciale. Possibilità di alcuni tratti soleggiati in mattinata, ma per il pomeriggio si attendono temporali. Andiamo a vedere le aperture dei quotidiani locali che troviamo in Edicola. Iniziamo con l'Alto Adige, la politica salza lo stipendio, riforma aggirata con un trucco, aumenta l'indennità. Poi nella fotonotizia gli studenti e il preside maestri di differenziata a Bolzano a lezione di corretto smaltimento rifiuti. Poi negli interni la cronaca si aggrappa al treno ma perde la vita, la tragedia in stazione a Bolzano. Passiamo al quotidiano Corriere dell'Alto Adige, Megastore Benco vince Altar, i giudici non concedono la sospensiva. Hager ora parta la gara europea, il commercialista sollecita il comune. Poi nella fotonotizia direttore generale Caramaschi nomina Zeppa, Andrea Zeppa nuovo city manager di Bolzano. E poi anche qui negli interni stazione Corsa Disperata, giovane perde l'appiglio e muore sotto il treno. Passiamo al Dolomitten, un altro addio a Palazzo Widman, Compacer perde un altro dirigente, Andrea Zeppa va al comune di Bolzano. E poi nella fotonotizia animali da pascolo, come comportarsi nel caso in cui questi si dimostrino aggressivi durante le escursioni in montagna. Passiamo ora al settimanale su Tiroler Wirtschaft Zeitung. Economia, si parla del mondo delle imprese in apertura, mondo delle imprese a due facce, i dati ufficiali sono positivi, ma mentre alcune imprese sono lanciate altre arrancano. Quali sono i provvedimenti da adottare per cercare di migliorare la situazione? E chiudiamo con la Tagest Zeitung, in apertura quando i padri non pagano si parla di assegni di mantenimento e delle difficoltà dei genitori separati. Bene, con questo ho terminato, io vi ringrazio per l'attenzione e vi auguro una buona giornata. Grazie a tutti.